Una mattina il maestro Federico ha trovato in un prato di fronte alla scuola vicino ai bitoni della spazzatura una coppia di fungo. Siamo usciti con la macchina fotografica, le abbiamo fotografati e poi ne abbiamo portato in una scuola. Era un fungo molto grosso, tutto arancione e toccando la spugna sotto il cappello aveva iniziato a diventare blu. Dopo averlo salvato per bene con l'aiuto dei cartelloni dei funghi che abbiamo a scuola, ci siamo resi conto che non era un fungo comestibile e si chiamava Polletus Ruridus.